La stanza è un film del 2021 scritto e diretto da Stefano Dovichi. In questo film una donna vestita col suo abito nuziale, in una giornata tempestosa essenzialmente, sta per buttarsi dalla finestra, evidentemente disperata. Cosa accade però? Improvvisamente, mentre lei è frastornata e probabilmente sta decidendo se farlo o meno, probabilmente lo sta per fare, cosa accade? Qualcuno bussa alla porta della sua casa, della sua pensione tendenzialmente, è in una sorta di villetta lei. Lei, un po' riluttante, allora torna sui suoi passi, si toglie dalla finestra e quindi scende giù. Troverà un uomo, un uomo che dice di essere un potenziale ospite della pensione, perché evidentemente da qualche parte o gli è stato segnalato, oppure ha visto qualche inserzione pubblicitaria, e quindi, siccome ha fatto un lungo viaggio, vorrebbe avere la possibilità di essere ospitato per qualche tempo. Lei è molto riluttante, ma alla fine, un pochettino perché gli vengono dati dei soldi, ma soprattutto perché l'uomo, interpretato da Guido Caprino, dice alla donna, interpretata da Camilla Filippi, di conoscere il marito di lei, un certo Sandro, allora lei in qualche modo si rassegna e quindi lo fa entrare. Gli lascia una stanza, quindi una stanza per gli ospiti essenzialmente, che ormai, siccome da tanto tempo che non ha l'attività sospesa, allora è troquanta da rifarsi, e poco dopo i due si ritrovano con quest'ospite, appunto, che scenderà giù in cucina e comincerà a far da mangiare per sé e per lei addirittura, facendo letteralmente un po' come se fosse a casa sua, per certi versi. I due, alla fine comunque, attaccano un pochettino a bottone. Lui le racconta un pochettino del suo passato e lei, in qualche modo, diciamo che tiene il discorso. Cosa accade? Ad un certo punto, però, dopo qualche momento di tensione che alla fine è venuto fuori, bussa alla porta e arriva quindi il marito di lei, evidentemente che non convivono più assieme, molto probabilmente, oppure se ne era andato da poco. Stiamo parlando del personaggio di Sandro, interpretato da Edward Pesce. Cosa accade, però? Appena arriva Sandro, subito, si capisce che in realtà l'ospite è un contamusse. In realtà non conosce questo Sandro, assolutamente, e in realtà probabilmente è lì per qualche motivo che non gli ha detto. Improvvisamente Sandro viene colpito la testa e tramortito, e così viene tramortita anche Stella. I due si ritroveranno molto presto alla mercè di questo aguzzino, di questo giudio, che comincerà, in qualche modo, mentre loro sono legati ad un tavolo, a torturare psicologicamente e nel frattempo dà anche diverse botte al personaggio di Sandro, e in qualche modo cerca di rivendicare una sorta di vendetta, appunto, per tutto quello che gli ha fatto questo qua, e soprattutto per tutto quello che ha fatto passare a Stella e alla sua famiglia, essenzialmente. E' un revenge movie, tutto sommato, questo film. E' un revenge movie che, purtroppo, posso dire, per me non è stata la sorpresa che poteva essere. C'è, a un certo punto della storia, un colpo di scena in realtà, un colpo di scena che viene suggerito da alcune cose. Io, purtroppo, questo film, malgrado ce l'avessi presente un pochettino come trama generale e me lo fossi messo in lista, andando avanti, dopo i primi minuti, nel giro di poco ho capito il perché me l'ero segnato nella mia lista infinita di film da vedere. E quindi il colpo di scena, se vogliamo, che comunque non è un colpo di scena finale, ma in realtà viene rivelato abbastanza rapidamente, sommato, e poi viene approfondito, fra virgolette, anche se non troppo, purtroppo io me lo sono perso e questo mi avrebbe fatto apprezzare, forse, un pochettino di più questo taglio straordinario in questo contesto come regola, così, sì, tendente all'oro, ma comunque super realistico, tutto sommato. Peccato, peccato non aver avuto questa sorpresa. Un'altra cosa che purtroppo devo dire peccato, tutto sommato, è quello che secondo me taglia la testa un pochettino a questo film, per certi versi, o meglio, alla potenza che questo film poteva avere, tutto sommato, e alla potenza che le interpretazioni degli attori, sia del personaggio di Stella, cioè Camilla Filippi, sia del personaggio della Guzzino, Giulio, interpretato da Guido Caprino, ma anche Edoardo Pesci, tutto sommato, questi personaggi, diciamo, che perdono un pochettino a causa del minutaggio. Secondo me, sono in grado di recepire le informazioni, elaborarle, farle loro, crederci e rapportarsi di conseguenza in maniera troppo rapida rispetto a quanto sarebbe realistico. Ovvio che nella realtà le cose avrebbero, se fosse mai possibile, è un'arma del genere ovviamente, le cose sarebbero ancora più pagate e ancora più lunghe, però in questo film, con l'ottantina di minuti che sono a disposizione e che, secondo me, hanno comportato anche il dovere in qualche modo a dolcire un pochettino il tutto sul finale, diciamo che fa perdere un po' di smalto alle interpretazioni, il che è un vero peccato, un vero peccato perché comunque quello che fanno i personaggi ha un senso, ha una sua logica, sempre, secondo me, tutto sommato. Il problema è che sono troppo attivi nel recepire e nel fare loro e nel reagire. Sarebbe servita un pochettino più di lentezza, lentezza che, secondo me, con una mezz'oretta in più, sarebbe avuto in maniera più che sufficiente, tutto sommato. Il finale, come ho detto, anche questo, secondo me, ha patito un pochettino la necessità di concludere il tutto in un'ottantinaia di minuti e quindi è forse un pochettino troppo dolce, fra virgolette, rispetto a tutto quanto, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento del figlio e della coppia. Peccato, peccato perché questo film comunque è una bella idea, secondo me, è una bella idea, soprattutto per il suo, quasi del tutto, non spiegare l'elemento straordinario al suo interno. Gettare tutto quanto, semplicemente, fra virgolette, in un discorso horror, senza una spiegazione, senza una descrizione accurata di quello che è il meccanismo, evidentemente, che ha portato la guzzina ad essere lì, secondo me è una buona idea, una buona idea, perché non ce n'è bisogno. Tutto quello che deve interessare essenzialmente è effettivamente quello che succede in quella casa e le dinamiche, appunto, le reazioni delle persone che vi vivono, essenzialmente. Beh, che dire, io tutto sommato comunque ho un giudizio positivo di questo film, al netto di alcune perplessità, magari su alcune sfumature. Questo film nasce, se ho capito bene, in periodo fra l'altro, di pienissima pandemia, mannaggia, e quindi è stato girato in un paio di settimane durante il primo lockdown, se non erro, e nasce con questa voglia di analizzare un pochettino il tema della reclusione e anche, e anzi ancora di più forse, analizzare un pochettino il fenomeno degli Ikikomori, di coloro che magari, per scelta personale, decidono di limitare anche in maniera molto importante il loro coinvolgimento negli spazi sociali, diciamo, in comunità, eccetera, e preferiscono spesso e volentieri rimanere in ambiente domestico, nel proprio ambiente domestico, in alcuni casi, come in questo caso, magari nella propria stanza. Complessivamente, credo che comunque questo film, a letto di alcune critiche che possano essere di fatti, sia per la visione di un certo tipo, sia per la resa effettiva, tutto sommato comunque abbia delle buone idee, e soprattutto per queste, e perché comunque ha delle buone interpretazioni, a mio avviso, su tutte personalmente, ritengo quella di Guido Caprino, ma soprattutto anche quella di Camilla Filippi, credo che sia un film che merita di essere visto, e quindi se vi capita, recuperatelo.